Ok ragazzi, eccoci qui su Batman Arkham War C'è Stefania a registrare Ciao Stefania Siamo qui all'entrata della Fogna Per cercare Robin che si è perso Che bella la Batmobile Andiamo va Stefania ha già fatto sta parte e sei spaventata Ma non perché mi facevano paura? Perchè venite? Vabbè venite Beh, qui siamo! Uh, Joker Non hai capito che siamo inseparabili? E cosa vuole? Ho qualcosa per te E' inquietante Oh, ti raddoppiato lo sai Quindi Apriamo là Non può fare da me Questa è roba dell'enigmista Comunque Ah, vedi? Là c'è qualcosa Degli obiettivi Vabbè poi li faccio più avanti Oh, ecco Robin Oddio Ciao Ciao Robin Tieni amo, prendi questo 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 Non funziona Questo nemmeno Ehm, è vero E chi ti chiamare Coppycats Robin number 3? Come on Dobbiamo fuori Perchè non mi devo avvicinare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ehm, scemo Voi là No, sembra come un fuso Io cerco a questo lato Dai Robin, dai Renditi utile Ma chi è che piace a Robin? Ho sentito? Ma chi è che piace a Robin? A te Nei necessitano di riuscire Brava Ah, non ci sono dei numeri 10, 20 e 15 20 No A secondo Vedi 10, 20 e 15 Eh Il 15 Dove va? All'ultimo Sta caricando Bene Ok Il panel è open Sembra come Scusa Sembra come Poi Parla Arriviamo Oh Chi ha invitato lui? Oh Robin Sampdling È remix Ma Altrade Un po' Urb Non Allora Così Sono Ecco Deve Questa è la boxe, ma ho perduto alcune foglie. Tieni! L'ho trovato! Tieni! Bene, siamo fuori da qui. Nooo! Un po' di questo piccolo cuore! In realtà pensa che ci sarà un'altra cosa! Perfetto! Un'altra cosa! Non ti sento, l'ultimo sta lì sopra! Prendiamolo! È caduto! Prendiamolo! Muerte su! Ma sei bello! Ma sei bello! Ma sei bello! Chi è un vero monstero qui? Sei ok? Precisiamo l'ultimo foglie. Grazie. Ok, provoci l'acqua. Ok, ili è bloccati. Prendiamolo. Prendiamolo. Ok, questo dovrebbe fare. Ok. Prendiamolo qui! Aia. Bello. Che cazzo. Cosa sta succedendo? Quindi, Robin forse è morto. No! Stiamo scendendo in questo ascensore. Vado sempre alla sveglia, alla sveglia al mattino. Sei fermo, sei zitta. Ma tu mi senti. È poco. Ho le cuffie, stai con me. Guarda. Quindi? Non riuscivo a sentirti. Non riuscivo a sentirti. Siamo arrivati? Per i pazzi. Andiamo. Qui c'è qualcosa. Eh? Vabbè. Andiamo avanti. Salve. Chi? Che c'è? È chiuso. I soldi. Cash. Apri. Lì c'è una cacola. Giusto? Che figo. Mettiamo la testa dentro. Qui c'è una tessera di sicurezza. Voglio vedere se... Vediamo. Ho visto? Va aperto. Vediamo che c'è. E i soldi. Allora c'è. Una foto. Di famiglia. Eh? C'è. Un bicchiere. Bello. Mi piace. C'è. Che cos'è? Un uncino. E c'è una mappa qua. Vabbè. Non c'è niente. Andiamo. Vediamo che c'è qua. Eh. Salve. Ahia. Mi stai prendendo? Sì. Ok. Di là che c'è? Salve. E' bello che il mio armadio sa proprio dove finisce qua. Cosa. Wow. Ok. Ora. Salve. Sì. Ma che? Mi abbraccio. Ok. 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 Mi sa che siamo pazzi. Siamo pazzi. Siamo pazzi. Abbiamo una situazione. Oh. Riprenditi. Focaccio. Ho bisogno di trovare chi ha fatto questo. No. 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 No, sono muscoloso. Oh, allora. Ciao. È scomparso. È fatta bene questa parte. Ciao. 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 Uno dei miei ragazzi wracca dal club. È scomparso. Dice che ha visto il tuo ragazzo. Dice che sei dopo lui. Dice che sei dopo lui. L'ultima cosa che diceva, prima che un ragazzo lo spiega, e dopo la scomparso. Sì. Questo è quello dell'obbittore. Sì. 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 Ho qualcosa per te. Vedo. Mi sono spaventato. questo graffetto. Qualcun tipo di... gioco o un coppiazza, magari? Sì. Peccato lui. Peccato. Oh. Ho le mani sporche di sangue. Qui siamo stati noi ad uccidere Nightwing. Oh, il dinamico duo! Insieme a riuscire! insieme nei commenti molto particolare bene, like condividete il video ragazzi, questo è tutto noi ci vediamo alla prossima, ciao belli